Ciao, sono Jacopo Koghe, vicepresidente di Provita e Famiglia Ollus. Il 2022 sarà un anno cruciale per la difesa della vita. Molto presto potremmo essere chiamati a votare alle urne per il referendum indetto dai radicali sull'eutanasia legale. Ma ben pochi sanno che in realtà non si tratta di eutanasia, bensì di omicidio del consenziente. Tutta un'altra storia. In Parlamento avanza una proposta di legge sul suicidio assistito e anche in questo caso vige una diffusa ignoranza sui termini della questione. Eutanasia, suicidi assistito, omicidio del consenziente. L'Italia è affacciata su un baratro. Non possiamo cadere nella retorica delle vite degne di essere vissute. Questo aprirebbe alla soppressione di malati, anziani, depressi e anche bambini. Tu quanto ne sai tutto questo? Sai di cosa si sta occupando il tuo Parlamento? Sai cosa si potrebbe decidere a breve con il referendum sull'eutanasia? Provita e Famiglia ha organizzato un grande convegno per approfondire su questi temi e farti capire di che cosa si tratta. Che si svolgerà mercoledì 9 febbraio alle ore 10.30 in diretta streaming. Un evento al quale parteciperanno medici, giuristi e rappresentanti di associazioni per la vita. Non perdere l'occasione di questo grande evento per capire quello che sta succedendo nella società, nel tuo Paese e accanto a te. Clicca subito qui per iscriverti e ricevere il link per collegarti alla diretta e seguire il convegno comodamente da casa tua. Perché solo finché c'è vita c'è speranza. Iscriviti ora. Ti aspetto. Grazie. Grazie. Grazie.